SEMBRA CHE PER LA RESISTENZA Non mi piace per niente. No? No, penso che dovremmo arrivare all'hotel per altre vie. Evitare tutta quella gentaglia. Scusa, hai anche un piano oltre alla granata? Sì, ce l'ho. Li aggiro da questa parte e gli rovino la festa. E non dimentichi qualcosa. Qui entri in scena tu, tesoro. Devi occuparti di lui. Ma fallo in silenzio. Fallo in silenzio. Ma sei proprio sicura? Sono tempi bui. Ma che cosa vuol dire? No. Arriva! Sì, attenzione. Sì, la testa! Sì, la testa! Sì! In arrivo! Granata! 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 Buon appetito! 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 Come a tutti! Ponte le asso! già questo deve essere l'ultimo cosa intorno viene a vedere c'è una scala antincendio la scala antincendio la scala antincendio è l'unica cosa da fare spingimi su ecco ecco sali ok finora via libera c'è un altro modo per entrare non da qui molto ingegnoso ecco 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 qua! Questo ti fa male. È così. Sei morto. Lì! Giù la testa! È così. 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 Per piacerti un po' troppo. È così. Her. Ha. Ehi. Due tiri a pallanuoto. Sto sognando. Andiamo. No. Splash. Pazzo. Ha. Un pesce fuor d'acqua. Sai così poco professionale. Beh, ci siamo. Ora dobbiamo trovare il tempio giusto. Eh, più facile a dirsi che a farsi. Già, non dirmelo. Forse potre... Ehi, bingo. Eccolo là. Proprio quello? Credo di sì. Quello in mezzo a tutti gli spari e le esplosioni? Fortunati. Nate, e dove l'Azzarevi c'è accampato? Io speravo di andare nella direzione opposta. Beh, sono tempi bui, no? Drake ha avvistato nel settore 18. Oh, merda. Questo non è il settore 19, vero? Cercate in città, provatelo e fatelo fuori! Figlio di puttana. Ok, dobbiamo andare. Forza, Nate! Muoviamoci! Dannazione! Come arriviamo dall'altra parte? Oddio, attenzione. Santi, Luke. Ecco, sono qui. Dammi la mano! Vai! Vai! Non fermate! Vai! Non fermate! Non ciò che si sa pò leur. Che si sa pò? Lo so? Fai giù! Rialzati, Nate! Tutto ok? Ma è stato meglio! Hey! No, 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 non ascensore! Dio sta! No, no, no! Non ascensore! Gio sta! Oh! Il diavolo stanno facendo Così non va Oh, merda Sta venendo giù Ci mancava tanto così Di qua, vieni Mi sa che siamo capitati in basso stagione Dai Dai Un ponte, grandioso Li hanno costruiti i combattenti della resistenza per muoversi tra i denti Ci è andata bene Lasso Un ponte, grandioso Ecco sì. Sì. Nate, attento! Ehi! Il tipo non dè morte! Atterra! Sì. 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 In qualche tempio, derubi il museo. Anch'io sono contento di vederti. Tu sarai qui per una nobile causa, vero? Siamo sulle tracce di un criminale di guerra, Zoran Lazarevic. M'hai sentito? Non se ne occupa la Nato. Credono sia morto sotto qualche bombardamento. Oh. E tu sei qui per provare il contrario. Sai cosa? Quel tipo è un mostro, Nate. Nate, parliamo di torture, mutilazioni, esecuzioni di massa. Ma ora sta tramando qualcosa. Ma perché qui? Perché devastare la città? Non ha alcun senso. Oh, no. Dimmi che non c'entri niente con tutto questo. Ma è ridicolo. Ecco ti, Nate. Credo di avermi persi. Oh, ehi, 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 è tutto a posto, Clo. Sono giornalisti. Bene, meglio muoverci se vogliamo precedere la zarevice e... Diamine, Nate. Ehi, ehi, aspetta. Non saltare alle conclusioni, Elena. Oh, scusate. Sbaglio o c'è qualcosa tra di voi? Oh, Elena Fisher. Usato garantito. Ah, ah, bella questa. No, no. Mi fa piacere, ti diverte tanto. Beh, è che non pensavo ti piacesse il tipo raffinatino precisino. Tutto qua. È molto più tosta di quanto sembri. Grazie. Oh. Oh. Oh, cosa? Ti ha spezzato il cuore. Ma per favore. Sì. L'ha fatto io. Forse ho spezzato io il suo. Che dici? Oh, sì. Casanova. Dobbiamo muoverci. Ah, aspetta. Loro vengono con noi. Non dirai sul serio? Invece sì. Non posso lasciarli in questo casino. Non posso. Ci faranno rallentare. Sai che se ci... Se la Zarevic becca te e me insieme... Io non li abbandono qui. Non puoi giocare sempre a fare l'eroe, sai? Nate! Il ballo lo finisci con chi l'hai cominciato, ok? Sì, ho capito. Ma loro vengono comunque. Non ci servono, salvatori. Grazie. Forse vuoi ripensarci. Merda. Via! Occhio! Lo vuoi adesso?